Uno contro 100 ragazze, smash or pest? Vediamo con 100 ragazze quanti smash riuscirò a portare a casa State tranquilli, è solo un video scopo illustrativo, andiamo! Quindi oggi sto facendo un sondaggio importante, chiedo a 100 ragazze quante ragazze mi smasherebbero, sì o no? Quindi voi siete le prime Pesto Pesto Ne basta una alla fine per essere felici Basta, non te ne do No, no Pesto Ah, io Pesto, piranzata Noi siamo sposati Noi siamo sposati Oh shit Per me sarebbe uno smash o un pest? 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 Mi smasceresti? Sì Sì, ok Sette su cento, sette In una vita ipotetica, non voglio E appunto, in una vita ipotetica Io sono 2001, sono un ragazzo vecchio, ormai una pensione, però in una vita ipotetica Per voi, smash or pest? Veloce, non mi affetto Smash Come ti chiami? Nicole Nicole è il primo smash, incredibile un applauso Smash Smash Come ti chiami? Elisa Bravo Elisa Pest perché sono fidanzata Va bene, va bene, lo accettiamo Lo accettiamo Giusto, anzi, anzi Un applauso anche per lei Se non fossi stata fidanzata? Non lo so Brava, la risposta perfetta Smash Smash Come ti chiami? Carlotta Grazie Carlotta Grazie ragazzi E voi uomini? Smash 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 Siamo a 11 3 smash, 8 pes Allora, siete la dodicesima e la tredicesima Per me, io sarei uno smash o un pes? Ok, te? Smash ai mei wing Brava, brava, te? Pest Io, per voi, sarei uno smash o un pes? Smash Tu hai 5 smash, grazie Pest Smash Di che anno siete? 08 Ma voi, uscireste mai con me? Quindi, per voi, sono uno smash o un pes? Pest 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 Come ti chiami? Valentina Un applauso, ragazzi Va bene, l'accetto, ma un attimo Di che anno siete? 09 09 09 09 08 Che sei consentente non arresta Io, per voi, cioè, ipotetica, non voglio rischiare arresto Io sarei uno smash o un pes? Pest Pest Voi, di che anno siete? 09 09 Quindi, se io sono uno smash o un pes? Smash Sì! Un applauso Come ti chiami? Francesco Brava, Francesco Un applauso, grazie Smash No Persa ragazza Ragazza Guarda, sono pregato ragazza Pest Io continuo a dire smash Allora, smash Però sono fidanzata No, no Cioè, nel senso, in una vita ipotetica Smash con rispetto Smash 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 anche per me? Cento per cento Cento per cento? Allora, altre due nuove? Altre due nuove, siamo a 32 Pest Ride pure, ride Smash Smash Di che anno siete? 2003 2009 Plur Andiamo, siamo a 32 Smash un pes? Non mi offendo, potete dire quello che volete Sondaggio Pest Seiesimo e 37 Per me è uno smash o un pes? Smash Smash Di che anno siete? 2009 Sono sotto la console di open Vediamo, siamo a 37 Quanti arriviamo Andiamo, andiamo Sto chiedendo a cento ragazze Se uscirebbero mai con me In un mondo ipotetico In un mondo ipotetico Uno smash, un mega smash Cosa? Per me Smash or pes? Per me Smash Per me Smash or pes? Smash 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 Di che anno siete? 08 09 in un mondo ipotetico e non è non pensate male per me quindi uno smash un pass per me va bene meglio meno male va bene è un video scopo illustrativo concordo quindi smasher pezzi di che anno siete per me smash or pass in un mondo ipotetico di che anno siete 2008 2009 voi uscireste mai commessi o no per voi sono uno smash un pass adesso mi velocizzo qualche smash non perché le ragazze mi stanno antipatiche anzi ma perché ho avuto qualche problema tecnico col microfono quindi questi smash saranno molto rapidi ma anche questi pezzi per ora sono più di 40 smash incredibile forse dovuto alla mia macella guarda qualche new wing possente uscireste mai commessi o no ovvio 83 io no perché è il mio uomo bravi certo se quindi sono a 85 andiamo uscireste mai commessi o no no se fossi più grande sì se mi offri la mia macella ragazza domanda velocissima se l'hai già chiesto mi serve una squadra che mi dia una mano dopo no 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 l'hai in mezzo andiamo andiamo voi uscireste mai commessi o no no se fossi più grande sì se mi offri da bene sì dipende dipende da cosa da come mi tratti capito io tratto benissimo ok let's go in un mondo ipotetico uscireste mai commessi o no perché no perché no sono a 98 su 100 diciamo che qua open la cosa si è attivata gli ultimi due smash andiamo a trovare gli ultimi due smash ragazze domanda velocissima io adesso ho chiesto a ben 98 ragazze se uscirebbero in un mondo ipotetico con Ben quindi se mi smasherebbero sì o no voi sono qua fuori siete le ultime due ragazze no? quindi voi in un mondo ipotetico uscireste mai commessi o no? no pes due pes però qui sopra ci saranno i calcoli di quanti smash e quanti pes tu mi smasheresti se no? io si guarda che bello vecchio ce l'ho fatto ho chiesto a 100 ragazze di uscire con me se mi smashavano se no la cosa è finita qua vediamo se troverò la donna dei miei sogni l'unica donna della mia vita vedremo se ai prossimi eventi open riuscirò a trovare la moglie sì o no? ciao mamma dentro il cervello